ciao sono silvia bottoni e volevo fare gli auguri di buon compleanno ad almax magazine dodici anni di almax che ci hanno permesso di conoscere il mondo dello spettacolo e tantissimi artisti attraverso interviste e articoli sempre originali e con un punto di vista diverso almax auguri 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 e cento di questi anni un abbraccio speciale ad alessia ideatrice di questo splendido progetto ciao a tutti